Ciao a tutti sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi Ilari Blasi ha fatto un gesto per il suo nuovo compagno Bastian Muller che pare una vera frecciatina Totti. Tutti i dettagli.Ilari Blasi ha intrapreso una relazione con un uomo che la rende felice, il suo attuale compagno è Bastian Muller. I due sembrano molto in sintonia e infatti passano davvero molto tempo l'uno in compagnia dell'altra. La coppia è davvero innamorata, e questo emerge da diversi post e interviste che vengono resi pubblici proprio da loro Nell'ultimo periodo, la Blasi ha fatto un gesto che ha lasciato tutti a bocca aperta Ilari Blasi, il gesto per Bastian che stupisce tutti.Durante una meravigliosa vacanza trascorsa insieme in Africa, la coppia è apparsa radiosa e felice in una storia pubblicata su Instagram Questo dimostra un forte legame nonostante il momento difficile che Ilari sta vivendo a causa del suo divorzio in corso con l'ex calciatore Francesco Totti Nel messaggio condiviso con i fan, Ilari esprime tanta gratitudine per la sorpresa organizzata da Bastian e per l'esperienza indimenticabile vissuta insieme Le sue parole sono cariche di affetto e evidenziano l'amore che nutre nei confronti del suo attuale partner, l'imprenditore tedesco. Però è doveroso notare che ciò ha suscitato una certa delusione tra i fan Ilari Blasi. Lei non si è mai mostrata così tanto sui social media. Mentre, durante il matrimonio con Totti, le pubblicazioni di Ilari erano più riservate e rare Ora sembra essere diventata più aperta e attiva sui social, condivide i momenti intimi della sua vita con Bastian Questo cambiamento di comportamento ha lasciato un retrogusto a mano a coloro che seguono con affetto La storia tra Totti e Blasi. Molti si chiedono se questo aumento dell'attività sui social da parte di Ilari sia un segnale della fine definitiva del legame con l'ex calciatore e dell'inizio di una nuova fase della sua vita sentimentale con Bastian Muller È comprensibile che i fan siano affezionati alla coppia Totti-Blasi, che è considerata una delle coppie più iconiche nel panorama dello spettacolo italiano. Ilari e Francesco hanno condiviso molti momenti importanti e hanno costruito una famiglia insieme Per cui vedere il cambiamento dei personaggi può scatenare sorpresa e malinconia È importante ricordare che le relazioni possono evolvere e cambiare nel tempo È che ogni individuo ha il diritto di cercare la propria felicità Ilari Blasi merita di vivere la sua vita al meglio, con la persona che la rende veramente felice, indipendentemente dalle opinioni degli altri Il gesto dolce di Ilari Blasi verso Bastian Muller ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan Ha messo in evidenza che la loro storia è intensa e reale Ci auguriamo che il futuro riserverà a Ilari e Bastian la serenità e la felicità che meritano